buongiorno a tutti vi faccio vedere il cammino che ho accesso per la prima volta dopo aver montato il motore della gemi come potete ben vedere il fumo viene aspirato per bene verso l'alto in casa si sta che è una meraviglia ora vi faccio vedere l'interruttore da cui si accende è la velocità minima 1 arriva fino a 6 velocità ora saliamo sulla terrazza dove è sistemato il cammino per far vedere come funziona il motore ci siamo eccola lì non so se lo potete notare il fumo può riesce perfettamente anche se è una giornata di vento funziona e siamo alla velocità minima come ripeto grazie a tutti